Non cambia e non cambierà per i prossimi giorni il calendario di conferimento dei rifiuti nella città di Torre del Greco. A seguito delle diverse notizie infatti circolate sui social e sulla stampa nelle ultime ore riguardo una possibile volontà dell'ente amministrativo di immaginare già a partire da oggi un nuovo metodo di conferimento giornaliero monomateriale, la nostra redazione ha contattato il portavoce della ditta Velia Ambiente, incaricata della raccolta rifiuti sul territorio, apprendendo non soltanto la smentita di una eventuale modifica del piano ma anche la conferma del calendario ordinario. Parole a cui hanno fatto da eco quelle dell'amministrazione comunale, a mezzo di un comunicato stampa nel frattempo diramato dal sindaco Luigi Mennella. Non partiranno prima di settembre, si legge nella nota a firma del primo cittadino, e saranno precedute da un'adeguata campagna di informazione alla cittadinanza, le novità legate al conferimento dei rifiuti differenziati a Torre del Greco. L'idea di passare al conferimento quotidiano monomateriale, prosegue la nota, è una delle ipotesi in campo ritenuta tra gli elementi utili a rilanciare la raccolta differenziata nella nostra città, arrivata negli ultimi tempi a percentuali deprimenti. Intanto sulla questione anche la voce dei cittadini torresi, ascoltati ai nostri micro. L'ho letta solo su Facebook, pubblicità niente, non è stato pubblicizzato niente, quindi non so come cosa avverrà, se non i cittadini devono essere informati di questo, sicuramente prima di nuove iniziative. Secondo lei c'è ancora un'emergenza dei rifiuti in questo periodo qui a Torre del Greco? Abbastanza, da quello che si vede in giro, cumuli di spazzatura e altro che sono ancora, ecco, basta girarsi e vedere là, a quest'ora ancora spazzatura per strada. Non ne so nulla. Ma lei denota per caso ancora dei problemi per quanto riguarda i rifiuti per le strade? Certamente sì. Anzi, forse la cosa peggiore è che non riusciamo ancora a capire se effettivamente a Torre del Greco c'è lo spazzamento. Non è ancora efficiente. No, ho visto solamente l'intervista dell'assessore Ramundo, però non c'è nessuna comunicazione sul sito. Stesso venerdì dopo l'intervista ho chiamato la ditta e non sapevano nulla. Cosa hai notato principalmente per le strade? La spazzatura in primis. Ma questo ci dobbiamo fare un mea colpa, noi cittadini sicuramente. Cosa può fare un'amministrazione da poco tempo insediata? Un'amministrazione o che sia da poco o che sia da tanto tempo, quello che ha da fare è il proprio lavoro per far sì che questo non succeda, perché per strada non si capisce niente di quello che c'è. La spazzatura ovunque per non parlare dei lidi marini come la litoranea, che non si capisce niente. Grazie.